le parole che vengono dal fuori nel cuore stiamo approcciando anche al mese di tamus il tempo vola abbiamo passato il 23 di sivan e non so se avete avuto modo di relazionarvi con quello che abbiamo passato shabbat che abbiamo passato il shabbat in cui passa praticamente l'editto un giorno importante il 23 di sivan il giorno in cui passa l'editto che gli ebrei possono proteggersi difendersi nella storia di purim nella storia nell'editto di aman che dove c'era questo editto che la popolazione poteva attaccare gli ebrei e il 23 di sivan passa invece l'editto il controeditto che gli ebrei possono difendersi famoso 13 di ad a ed è un giorno un grandissimo qua con grande forza e è un momento in cui si possono anche fare delle richieste sono la richiesta accogliere le nostre richieste anche oggi noi preghiamo a crossbro che accolga la nostra richiesta di poter ricevere delle buone notizie che si vinca questa guerra che i soldati siano protetti e che è fatto di intorno a casa in questi giorni così di l'influenza studiato molto e una delle cose che ho studiato è stato studiato la storia degli ebrei durante la prima la seconda guerra mondiale se pensiamo al numero di ebrei che hanno partecipato quella guerra che sono come la prima guerra mondiale come soldati non possiamo non possiamo capire il numero di sacrifici umani del popolo ebraico anche nella prima guerra mondiale in difesa dei nei vari paesi diciamo e oggi che siamo abbiamo il privilegio di 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 difendere la nostra terra e di sottolineare a chi appartiene che possiamo avere tanta braha ascoltavo un piccolo shiur non ha a che fare con quello che andremo a dire tra poco ma in realtà ha a che fare un shiur di un intervento di rap manis friedman che diceva che se avessimo la chiarezza semplicemente di dire al mondo che noi abbiamo ricevuto a registrare in eredità secondo la torà e non per niente il primo rasci del bereshit barai lo kim dice perché a shem si dilunga un intero seffer per raccontarci la creazione del mondo tutta la storia della creazione del mondo e tutto quello che viene a seguire il primo shiur il primo rasci della torà è di bereshit barai lo kim perché rasci dice perché arriverà un giorno in cui i popoli del mondo ci diranno che abbiamo preso a registrare e invece verrà testifico testimoniato che a shem ci ha dato ha dato ad avram e tra cui a poveri sui discendenti a registrare e detta questa è la risposta numero uno ora se noi capissimo che questa è l'unica risposta che si può dare al mondo sia che si parla di discendenti di esab chissà che si parla di discendenti di ishmael ad morroggio ragione con i discendenti di ishmael avremmo risolto molti problemi e tutto è legato al fatto che come dice come stiamo studiando questo capitolo 7 di shah a yahweh e munah tutto il creato è a kadosh barufu se noi rimaniamo legati al master print del creato che alla torà non ci possiamo sbagliare su quello che è l'ordine e le spiegazioni e il modus vivendi che a shem ci richiede e che ci sollecita per avere anche una vita un po più facile su quello che sono diciamo le dinamiche del mondo nella torà è spiegato chiaramente i conflitti sono spiegati i conflitti già i conflitti tra izzak e ishmael e tra yakove e sav e sono spiegate anche diciamo le dinamiche sta a noi popolo ebraico riconnetterci in modo ultimativo con la torà perché sappiamo che la torà con le mitzvot sull'espressione di ascemo in questo mondo e le mitzvot sono la volontà di ascemo in questo mondo quindi non ci non ci si può sbagliare perché dico questo perché il capitolo 7 sottolina e certifica questo concetto non è un concetto astratto di lo voglio vendere perché l'unica risposta perché anche si può accettare ma proprio perché questa fa parte della dna della creazione e per quanto noi siamo inquinati nel nostro modo di pensare nella nostra cultura nella nostra visione delle cose dal mondo in cui siamo cresciuti il mondo occidentale e tutto quello che noi abbiamo scimmiottato dal mondo occidentale la verità è che quanto più ci riconnettiamo con l'essenza della torà e con il messaggio della torà quanto più io entro in quello che la vera dinamica di questo mondo quindi riesco a raggiungere gli obiettivi preposti allora nasce spontanea domanda si è ancora un po' ha creato questo mondo e c'è stato il famoso zimzum come lo descrive la risa in cui ascemo si si fa piccolo piccolo in realtà è tutto ascemo è male colal min riempie tutti i mondi sovverco al min ci ricorda tutti i mondi ma ascemo è presente e non cambia la sua essenza l'essenza di ascemo rimane immutata prima dopo è durante perché è un momento unico anche il tempo ascemo è fuori dal tempo ascemo fuori dallo spazio e tutto questo mondo semplicemente noi non abbiamo gli occhiali o la sensibilità per capirlo perché noi siamo creato ma dalla parte del creatore non è cambiato assolutamente niente allora la sua spontanea domanda perché conosco ho fatto tutto questo mondo così complesso e soprattutto se noi popoli ebraico siamo il popolo eletto e quelli che abbiamo accettato la torà e quelli che portano il messaggio divino in questo mondo e quello che portano quello che è l'unione del mondo spirituale il mondo materiale in questo mondo ascemo non ce la poteva fare un attimino più facile un attimino più facile dall'inizio della storia perché sappiamo che ancora prima di mattantorà gli ebrei in egitto i fratelli iosef scende in egitto e fratelli scendono in egitto sappiamo che gli che gli ivri erano considerati mondo a parte perché questa cosa perché ascem fa sì che processo ancora dalla storia di jacob con scheme c'è perché ascem ha fatto questo processo in cui la vita del popolo ebraico dà gli albori è così complessa serve a fare un lavoro fammi fare il lavoro e va bene così a questo punto arriviamo anche al tempo di adamehava in cui si dice perché adamehava hanno mangiato nove ore dopo la creazione senza sapere che cos'è lo yetzarara cos'è l'inclinazione al male non lo sapevano non sapevano cos'era la morte non sapevano cosa sono i traumi non sapevano cosa vuol dire una mamma un papà i comportamenti miscomportamenti negazionismo tutto 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 non esisteva decidono di mangiare del frutto della conoscenza del male del bene quindi scendono in una dimensione di mortalità dove poi comincia il lavoro e bisogna sporcarsi le mani perché tutto questo e ho sentito una cosa molto bella e ha molto a che fare anche con quello che è il processo da un punto di vista individuale da un punto di vista collettivo come popolo che ognuno di noi fa parte del popolo ognuno di noi è fondamentale ognuno di noi porta un contributo quindi tutto quello che io sto facendo e oreca ci sto arrivando adesso alla mia tenera età ognuno di noi sta facendo lo stesso processo tutti insieme marciamo per quello che è ricevere la gheura è qualcosa che sta succedendo a livello collettivo su tutto il popolo ebraico chi di più chi di meno ma è una cosa che tutti stiamo in qualche modo raccogliendo fondamentalmente il concetto che è la spiegazione dell'introduzione del capitolo setto di tania che abbiamo cominciato giovedì scorso un capitolo molto lungo è che un re non può governare senza un popolo quando Hashem ha avuto l'intenzione adesso non posso esattamente spiegare i dettagli ma il concetto è questo quando Hashem ha provato il desiderio parliamo di desiderio di avere un popolo un mondo che lo serve Hashem aveva bisogno per forza di creare un mondo che sembrava indipendente perché non c'è re senza popolo che cos'è un re? un re è una figura che è riconosciuta dal basso un re viene, chiamo così, non si può neanche dire eletto ma viene riconosciuto dal basso, dal popolo ed è quello che noi fondamentalmente facciamo a Rosh Hashanah Rosh Hashanah è noi, la Vodah, il servizio di Rosh Hashanah è principalmente, quasi unicamente incoronare questo è il lavoro di Rosh Hashanah all'inizio dell'anno riconoscere il reame di Akronosh Baruch Hu e noi ci sottomettiamo a questo reame e ci mettiamo nella condizione di fare la sua volontà attraverso lo studio della Torah e fare le mitzvot perché solo attraverso lo studio della Torah e fare le mitzvot noi possiamo mettere insieme applicare quello che è il desiderio di Akronosh Baruch Hu di unire materialità e spiritualità adesso se noi fossimo invasi dalla luce divina non avremmo la capacità di discernere qual è la mia volontà e qual è la sua volontà se andiamo indietro con quello che è la storia di Adam e Chavah Hashanah dice di non mangiare dal frutto della conoscenza del male e del bene perché se no quando mangerete morirete sembra quindi che il comandamento sia non mangiare eppure quando poi Adam e Chavah mangiano sotto comprensione di tutto quello che è il processo di evoluzione da parte di Chavah perché Chavah capisce quello che è veramente il messaggio il messaggio è io non posso importlo ti metto davanti ma sei tu che devi offrirti volontario nell'entrare a fare qualcosa di estremamente complesso per avere un'elevazione se ci fosse unione totale dipendenza totale del popolo ebraico e quindi di ogni ebreo con Akronosh Baruch Hu se noi sentissimo se fossimo invasi dalla presenza di Akronosh Baruch Hu tanto che avessimo coscienza piena del valore di ogni mitzvah di ogni azione del nostro valore perché anche questo è molto importante del nostro valore ma chi si denigrerebbe chi chi non farebbe le mitzvah chi avrebbe cinque minuti di follia chi non si amerebbe all'infinito perché vede e sente la forza di Hashem dentro di sé chi non avrebbe rispetto di se stesso e degli altri perché saremmo esattamente allineati con la forza divina che è dentro di noi però ci ha fatto sì che tutto questo in realtà è celato va scoperto e quindi sta a me rimborcarmi le maniche e fare il lavoro in qualche modo mi devo offrire volontario di fare questo percorso che è un percorso duro dove sono io che decido di intraprendere un determinato percorso nella mia indipendenza tra virgolette nel mio potere decisionale nel mio libero arbitrio nella mia coscienza di me perché quanto più io vivo delle esperienze e prendo delle decisioni importanti e mi prendo responsabilità ho coscienza di me delle mie forze del mio del mio essere della mia profondità del mio valore e questo mi forma per poi ad essere formato, cresciuto, tra virgolette indipendente e in questo momento di grande dipendenza in realtà sposarmi incorporarmi con Akadosh Baruch Hu ed è quello che sta succedendo nella nostra generazione nei nostri giorni dove sono trent'anni che il rabbi ci dice che noi siamo già, possiamo già assaporare possiamo già incorporare quello che è il benessere e la struttura della Gheulà dove siamo già ricevendo la Gheulà che cosa vuol dire? avere una terza via, ritrovare un equilibrio e la coscienza di sé che fino a questo momento non ero capace a comprendere era troppo lontano era un concetto che era troppo lontano per poterlo fare mio ed incorporarlo e perché sta succedendo adesso? perché questo mondo come dice il rabbi come dice il rabbi Rajat è stato raffinato abbiamo strapulito i bottoni abbiamo disseminato Torà abbiamo fatto tutti i ticonimi che devono essere fatti adesso devo semplicemente imparare ad ascoltare la voce di Akrash Baruch Hu che è dentro di me e questo succede in un corpo, in una struttura fisica che è matura io so chi sono dentro di me c'è tutta nel mio sangue scorre tutta la storia di migliaia di anni del popolo ebraico e tutta la forza, la resistenza di tutto questo, chiamiamolo così, esercizio millenario e adesso quando io mi unisco a Akrash Baruch Hu mi unisco perché mi annullo perché non ho una mia essenza mi annullo perché io ho un'essenza ho una coscienza di me ma dentro questa coscienza riscopro quello che è la voce di Akrash Baruch Hu che è dentro di me che è tutt'altra esperienza e tutto questo si capisce dal capitolo 7 perché il capitolo 7 parte proprio dal concetto che Akrash Baruch Hu ha creato questo mondo dal desiderio di avere un mondo materiale dove risiedeci lasciamo vuole risiedere dentro di noi vuole parlare attraverso la nostra gola vuole che siamo un popolo di profeti questo è anche il desiderio di Moshe questo è anche il desiderio di Mashia di elevare il popolo ognuno arriva a un livello superiore perché non c'è Meler senza Am non c'è Re senza popolo se non ci fosse il popolo ebraico che ogni Rosh Hashanah suona lo Shofar e dichiara Hashem Meler Malcham Lachim non c'è mondo così nella sua semplicità non ci sarebbe mondo c'è mondo perché noi facciamo questo servizio e quindi anche quello che è il servizio di tutti i giorni quanto più noi ci riconnettiamo con questo concetto quanto più sciogliamo i problemi e piano piano ci stiamo arreviando anche veloce veloce in questo periodo perché il prezzo è piuttosto alto la creazione del mondo non cambia la sua essenza Hashem prima Hashem adesso Hashem dopo è tutta la stessa cosa ad Hashem non c'è il tempo non c'è il passare del tempo per questo i tzadikim che sono molto ben connessi con loro stessi e con il vero di Nishma più alto possono toccare quelle che sono la dimensione ultra spaziale ultra temporale perché si riconnettono con la loro Nishama con la parte della loro Nishama che è al di là dello spazio del tempo Hashem non cambia creando questo mondo non è che Hashem ha creato questo mondo e poi adesso gioca bridge no Hashem continua è tutto questo mondo non c'è nessun tipo di cambiamento così come era da solo prima prima della creazione del mondo nulla è tutto è tutto dopo la creazione nel senso che la nostra essenza è strutturalmente valida perché Hashem ha deciso che io sono qui adesso e quindi ogni cosa ogni dettaglio della mia vita e ogni dettaglio anche della mia del mondo dell'esistenza del popolo ebraico tutto quello che sta attorno in realtà l'espressione della volontà di Eccrocio Boruco in ogni istante Hashem ricrea questo mondo tutto il tempo così come è scritto così sei lo stesso così come quando è creato il mondo non c'è un cambiamento di Eccrocio Boruco per questo non ci può essere quando si parla perché diciamo anche tutto questo perché non ci può quando noi consideriamo le forze del male in realtà il male non ha un'assenza personale siamo noi che lo energizziamo la negatività siamo noi che lo energizziamo nel momento in cui ci riconnettiamo con la luce della Konash Baruco automaticamente facciamo sciogliere la negatività e dobbiamo capirlo questo perché non siamo ci stiamo lavorando lo stiamo processando ma se Dio vuole lo riusciremo a masterizzare al più presto o da ora questo concetto perché quando noi non diamo spazio alla negatività quando la negatività non ha alimentazione sparisce svanisce il buio non ha la sua essenza personale non c'è nessun cambiamento nella sua essenza nella sua conoscenza chi be di at atzmoy o deakolivrim perché Hashem conosce nella loro sua intimità ogni dettaglio tutto il creato perché tutto shakolmi meno battello bemizziute perché tutto è nullificato dentro di lui quindi questa qui è la partizione di Shabbat ma era importante leggerla perché dà un concetto cosa vuole vuole che facciamo lo switch dentro di noi e questo vale anche per me e vale per ognuno di noi lo switch dentro di noi in cui diciamo è tutto akarosh borku smetto di entrare in ansia per ogni cosa io mi riconnetto con la luce di Hashem e vivo e comincio a ascoltare quello che è la voce di Hashem dentro di me e smetto di combattere quello che io penso che sia giusto quello che io penso perché nasce da una razionalizzazione e smetto di ascoltarmi veramente e questo è anche il concetto di Hashem circonda tutti i mondi c'è una forza che è l'energia che vitalizza questo mondo e c'è una forza che si chiama che circonda questo mondo che non entra che è legato soprattutto al nome di Avai e che non entra perché è troppo grande per entrare però nella dimensione del creato ma Hashem che circonda tutto o che riempie tutto lo stesso Hashem e quindi per questo capisco quanto è la valore della natura del mondo materiale dove in realtà io vedo mondo ma è in realtà Hashem e quanto più andiamo avanti in quello che è il passaggio tra una dimensione maschile più spirituale a quello che è la dimensione del che è una dimensione più femminile nei dettagli in cui è lo Kim presente in questo mondo materiale che grida Havai e lo vedremo impareremo a vederlo e quindi anche quando contemplo una cascata un albero un cielo una farfalla una nuvola io mi riconnetto con Cana non deve progettare è concentrato la sua testa circonda questo palazzo ho il palazzo in testa che vuol dire che ha preso il palazzo l'ha fatto in miniatura l'ha messo nella testa no è che tutta la concettualità del palazzo in realtà ce l'ha in testa un architetto conosce ogni piccolo dettaglio di tutto il palazzo che sta costruendo ma non ha il palazzo in testa fisicamente è tutta la Havai tutto il pensiero il suo intelletto il suo pensiero circondano questo oggetto circondano questo palazzo che la cui forma e dimensione e dettagli sono presenti nella sua mente in ogni piccolo dettaglio però rimane una valenza mentale non è fisica questo esercizio intellettuale circonda in tutta la sua completezza questo oggetto di fatto aval però dice la nuova il tuo pensiero non è il vostro pensiero per questo noi non possiamo dire io capisco una persona dice io non seguo perché non capisco anche io lo dico non capisco non capisco mi esco pazza non capisco ma non sta a noi capire tutto non sta a noi capire tutto sta a noi allinearsi allinearsi quanto possibile ogni giorno un pochettino con tanta sincerità e tanta umiltà la vostra mente non è la mia mente non è la stessa cosa ma si vediato che conoscenza nel suo pensiero nella sua conoscenza ogni creato circonda ogni creato e lo crea e crea ogni creatura ogni creatura vitalizzata quindi questa forza vitalizzante che si porta nell'essenza da da nulla diventa una realtà da cui capiamo anche che quanto più io come ebreo sono riconnesso con la volontà di Akarash Baruch con la Torah e con le Mitzvot più il mondo che mi circonda io vitalizzo la forza di Akarash Baruch perché lo incorporo lo vitalizzo dentro di me e quindi automaticamente io distruggo sciolgo la negatività perché ho vitalizzato la vera forza vitale che dove vuole Hashem vuole io investo la mia forza io in quanto ebreo in realtà ho la forza di vitalizzare questo mondo sta a me decidere dove voglio investirla questa forza questo concetto vuol dire vuol dire che io ho il potere di cancellare di sciogliere la negatività dentro di me nella mia realtà quotidiana e se tutti insieme lo facciamo lo facciamo a livello mondo ed è questo vuol dire le cabelle la geula ecco a questo punto il male si è sciolto non esiste più devo cominciarlo a fare a questo punto a livello corpo io devo cominciare a riconnettermi dentro il mio corpo e di capire che così come Hashem mi ha creato dentro di me ho la neshamay lo kit delle scintille divine che devo imparare ad ascoltare devo imparare a riconnettermi io come Hannah Yardena formata e maturata tra virgolette indipendentemente che ha la sua essenza e che mi traver che abbraccia la voce divina che c'entra di sé e che comincia a viaggiare così come un ruo come un vento con questa voce e non più forzare la mano adesso la cosa deve succedere perché ho deciso che adesso succede no adesso lasciamo buone questo e fra un attimo lasciamo buone quello e ancora dopo lasciamo buone un'altra cosa e navigo secondo la volontà di Akrash Baruch Hu che c'è dentro di me e così accogliamo la Gheola Shlema abbiamo ancora qualche minuto se ci sono domande su questo quindi la natura la materialità qualsiasi cosa la materialità in realtà grida Hashem grida il Lukut il problema è che io prima non riuscivo a guardarlo tanto bene adesso comincio a vederlo molto meglio e il mio essere con Akrash Baruch Hu vuol dire che prima studio e poi posso fare qualsiasi tipo di attività dalla più alta alla più bassa ma siccome io seguo la volontà di Hashem che è dentro di me ogni cosa anche se la più alta o anche se la più bassa grazie all'attività più umile la vivo come l'esperienza più bella e più armoniosa perché sto facendo la volontà di Hashem in questo istante e non mi sto disconnettendo quindi non c'è alto basso non c'è c'è seguire la volontà di Hashem in questo momento in quello che è l'attività che Hashem mi suggerisce di fare in questo momento e questo è la soddisfazione il benessere nella materialità non c'è disconnessione nella materialità nel modo più assoluto e quindi il mondo il termine mondo può essere applicato solo in una dimensione di spazio e di tempo spazio nord e nord sud est ovest il tempo presente passato e futuro questa dimensione di Hashem in questo spazio e tempo non si applicano a quello che è il mondo spirituale più elevato e quindi se io mi riconnetto anche a questo concetto io quando mi riconnetto con la mia dimensione di scintilla divina a livello puro dentro di me io salto spazio e tempo e mi riconnetto con quello che è l'unicità di Akaro Shvarupo e e e quindi divento l'espressione della volontà di Hashem in questo mondo nel modo più perfetto e armonioso c'è di capire questi concetti fino in fondo perché quando avremo tutti capito questi concetti non c'è nemico non c'è male non c'è buio non c'è lotta non c'è guerra non c'è non c'è sofferenza possiamo accogliere molto presto la Geulah ora adesso la Geulah Shlema e di incorporare dentro di noi questi insegnamenti e di poter imparare velocemente ascoltare Hashem che dentro di noi nel modo più armonioso possibile perché ognuno di noi ha dentro di sé secoli di perfezionamento e non c'è nient'altro a perfezionare se non imparare ad ascoltarci che tutti i soldati e tutti gli ostaggi che ci siano la vittoria forte del popolo ebraico senza ingaggiarsi in altre guerre in altri conflitti ma perché con la nostra essenza noi sciogliamo il male e che tutto il mondo torna a fare teshuva così come Ishmael destinato a fare teshuva che possono succedere ora adesso e con l'accettazione e il ricevere Maschiat Zetkeno adesso nella nostra semplicissima quotidianità e capire quanto siamo importanti quanto siamo quanto ognuno di noi ha un mondo intero e ognuno di noi fa la differenza e porta armonia in questo mondo e ogni espressione di gioia e di amore e di benessere e di ascoltarci crea benessere per tutto l'amministra e per tutto il mondo vi dico questo shiura per fare la sua volontà e di seguire i suoi insegnamenti ci sono e il sicuro e la salvo per pure nici l'as subscribe